buongiorno ragazzi oggi vogliamo parlare di sesso ma non dal punto di vista tradizionale cioè sociologico psicologico comportamentale bensì da quello evoluzionistico la domanda che ci poniamo è la seguente perché il sesso ha vinto perché attraverso il sesso avviene un fenomeno biologico fondamentale che è la meiosi la meiosi permette l'incontro tra le caratteristiche femminili e quelle maschili dal mix tra i due viene la formazione di uno zigote grazie lo zigote si trasformerà in embrione e quindi in una nuova vita attraverso questo sistema lo scambio dei geni consente una maggiore variabilità genetica che alla base della adattabilità di un organismo quindi maggiore variabilità genetica maggiore adattabilità resistenza alle malattie dunque per rispondere alla domanda iniziale perché il sesso ha vinto ha vinto perché era l'unica strategia plausibile perché una popolazione delle specie potessero progredire altrimenti sarebbero già estinte e forse anche l'uomo non ci sarebbe mai stato piacere il sesso ed è il sesso impresentabile direttamente non è giunto un po' troppo perché... Grazie a tutti.